i miei amici napoletani mi dicono sempre che napoli una città che si ama o si odia io sono tra quelli che se ne sono innamorati a prima vista e in questo video vi dirò perché ieri c'è stato il concerto di gigi d'alessio quindi ci sono ancora tutte le franzenne riesco a fare una foto un video al farvi vedere la piazza speriamo che ripunescono tutto adesso si va alla galleria buonica dopo aver esplorato le gallerie borboniche e imparato la leggenda del munaciello possiamo tornare in superficie anche noi passando per questi pozzi andiamo a provare la pizza tritta di zia esterina per fortuna ho comprato le bustine per digerire perché so già che ne avrò bisogno la pizza tritta Ieri abbiamo imparato la leggenda dei umunociel, non so come l'ho detto, dei umunociel, e oggi andiamo a esplorare alcune strade del centro storico, come la via dei tribunali e così via. Vediamo che altro c'è da scoprire. Ho visto che a Napoli le calamite di Positano, Amalfi, Capri costano un euro. Quindi non fate l'errore che ho fatto io da Veracolla, di comprare le calamite in queste azioni turistiche, Amalfi, Positano, una calamita costa 3, 4, 5 euro. Quindi un piccolo consiglio per voi, compratele per Napoli, per meglio. Questa è arancina. Sì, con speciafretta. E questa? Sì, con speciafretta. Ragazzi, sto mangiando da Napoli la polenta fritta. Abbiamo l'arancina napoletana. Arancina buona. C'è un pezzo di salsiccia. E' diverso. E' diverso. Siamo nei quartieri spagnoli. Grazie a tutti. e dopo i quartieri sbaglioli rieccoci qua allora ragazzi adesso andremo a fare un corso di cucina napoletana per imparare a fare la pizza napoletana speriamo di riuscire a fare una pizza decente di tutto il rispetto intanto questo è il piazza pelibiscito mi piace un punto di incontro in una farmacia chissà perché se io ne compiuta ho imparato a fare la pizza napoletana o almeno credo lascio Napoli con una pancia piena e un gran sorriso mi raccomando se vi è piaciuto questo video ricordatevi di iscrivervi al mio canale ciao e alla prossima